che c'è scritto qua che c'è scritto qua da napoli un patto con maradona ho bisogno di due miracoli sentiamo sentiamo che miracoli vuole imparare palermo maradona grande diego sentiamo sentiamo però però vado a fare un favore voglio voglio che l'inter aperta l'acqua con la centri o ciclo di la centri o si con ma come gesti di 5 a 0 maradona ma vengono 5 a 0 di due vinci il campionato va bene va bene la giubinacolo e allegri va bene grande maradona vuole fare mettonato si metto un po però detto io ma la mia seconda squadra sarà queste me la bacio per l'entosso che intervista ancora da sfottuto buono tete lucazzo solleva la cebbia la cebbia voleva no vince volevano vincere volevano vincere ma l'hanno presa nel culo ma l'hanno presa nel culo ma l'hanno voleva no vincere ma l'hanno presa nel culo voleva no vincere ma l'hanno presa nel culo voleva no vincere ma l'hanno presa nel culo intenditori intenditori di miracoli e nonno buonasera da bare baremo questa sarà la mia seconda squadra finalmente bare baremo ritorna nell'ovile ritorna nella sua dimora dopo tre mesi iscrizione al canale di nuovo iscrizione al canale più cari voglio più juventini voglio che che questo canale deve essere juventino seguito anche tenderisti milanista tanti quanti ma si deve così quando voi perdete bisogna sfottere come vuole come voi avete sfottuto sempre la mia squadra come quale chi non ce n'è qua non siamo ab sim uguttu nativi per le cannes non ce n'è qua capi non ce n'è qua quindi comunque dicevo poi faremo dissima così e una vita così su youtube una vita così 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 però vediamo se parliamo anche di cacciugoli comunque sono stato a napoli quindi grazie maratona e comunque maratona merita questo sono da napoli ho già dell'economia 15 euro speso questa strada che bella maratona va bene grazie maratona che hai fatto perdere la ceva grazie maratona poi un'altra strada che mi piaceva ma questo quando mio padre ero piccolino ci faceva i film di totò di curtis va bene quindi io a ma a napoli ragazzi come si dice queste due ho dovuto comprare napoli è bella ragazzi però secondo me questi due personaggi hanno fatto la storia di napoli qua a livello di simpatia un artista comico totò di curtis e questo il dio del caccio si può dire maratona va bene quindi queste a napoli per me napoli sono queste quindi più maratona mi chiamano la donna si mi conosceva allora tutti i corsi si mi conosceva faceva l'attore e maratona si mi conosceva di cimbara in 32 ricaccio va bene comunque li faccio tutte e due grandi tutte e due li metto qua va bene quindi comunque adesso li spostiamo tanto ormai allora la mia seconda squadra sarà il Manchester City perché finalmente c'è stata una squadra c'è stata una squadra ragazzi miei che abbattuta c'è io ripeto stato in mezzo a mano ho potuto sfottere bene ancora no sono passato 20 giorni interista devi passare un'estate proprio brutta un'estate triste non è perché tu passare un'estate sto giro sarei tu a passare un'estate triste capito ti piace che vincere una ciepia ti pare che ripete ripete perché la squadra era forte questa è stata una squadra normale una squadra normale ripeto non avevo incontrato nessuno ho avuto ragione io benfica porto milan liscio te ne sei andato liscio liscio in finale però nella scuola che ti ha rotto il culo poi usciamo a testata a testa bassa hai perso hai perso vero che si ti ha fatto la più brutta parte ha detto anche dalla cosa dice da loro dal loro entourage dal loro diciamo dal loro dal loro come si dice dal loro radio dal loro tv nel loro ambiente hanno detto che il sito ha fatto la peggior partita dell'anno infatti quando l'ho visto mi sono detto ragazzi non è il sito quello quello non è il sito non è come fa un sito ha battuto solo 1-0 io diceva 5-0 6-0 comunque a doppio confronto l'inde perdeva a doppio confronto perdeva pure veramente perdeva andata e ritorno magari a milano pareggiavo ma al ritorno veramente c'è 4-5 gol in campo del city va bene quindi sto godendo ancora dopo 20 giorni si gode e mo sono in casa interista ha detto ti sfotto perché tu hai una vita che mi hai infierito e qua ci sono anche sul web ormai ci sono ormai pochi gioventini che vi sposo sai perché perché vogliono sempre capito perché dice aspettano parliamo bene della ma noi che chi lo ha visto ma che c'è me che me ne frega se l'indappello ma tu sei onesto fanno tutti gli onesti per avere sempre viso è un mondo perverso capito ma uno deve avere anche visual perché come si dice per anche chi ci vuole sfottere loro sfottano a noi io sfotto a loro quello pubblico fammi capire poi se hanno vinto meraventamento vabbè vero è dato capito comunque non ce n'è cempe la cempe è finita la cempe quindi fino alla pinedina fallimento in europa league così figlia fallimento con con immagini sessiti in cempeo stigli quindi e questi c'è noi fino a can fine ma noi nove volte siamo andati combattere nove volte su nove volte due nuove e sette per si arriva in finale pente però noi eravamo sempre lì eravamo sempre lì tu dove eri proprio ne erata scomparso in cempeo non hai fatto mai proprio il nostro percorso te lo sei proprio dimenticano perché tu non sei perché hai il culo perché hai una cempeo in più giustamente che negli 60 mi ciste due giustamente quindi tu ti voglio pagare a me non sarai mai la juventus capito quella vecchia juventus quest'anno lo vediamo quindi rista ti sfotto deve essere sfottuto devi passare un'estate triste triste e io allevio va bene oh oh sto godendo comunque ora capisci che significa inferiore con noi comunque capisco anche quando tu hai goduto capisco ma io si godo ma ora capisco perché anche io sto godendo ecco tu capisci come per dire cempeo ora l'hai capito e io capisco come mi hai inferito capito però praticamente tu a me me l'hai sempre tu a me mi hai sfottuto sette volte tu non ti presenti mai ora fammi sfottare a me finalmente posso sfottare capito comunque questo è l'ultimo sfottimento e così in auguro dopo tre mesi ci sta dopo tre mesi deve inaugurare perché lucazzo fa il poplay ho vinto ho stravinto avete fallito tutti quanti tutti nati per petre absim nati per cazzo tutti tutti youtube del mondo giornalista di che quello è un topoplay no avete fallito visto la si è mangiato due gole signorino lucazzo va bene quindi ho avuto ragione bare palermo come di caccio competenti di simpatia competenti di tutto va bene andi interista a vita dichiarato ma ci sono interisti che mi seguo sui intelligenti vabbè ma non finna alla fine mi sfutta io sfutta io questo va questo è questo capito anzi e ritorneranno anche dissing ma no con i tipi scritti che planisti ritorno e dissing con questi che si sentono i ventini va bene mi rimetto di nuovo in gioco per l'ennesima volta lecchini mai mai lecchini niente di niente dice vabbè sono lecchino però dice goditi questi iscritti fitusi che c'hai 6400 ho capito se chiedi lecchino hai 50.000 iscritti va bene hai capito com'è il mondo youtube basta essere lecchini via forza city la mia seconda squadra anzi mettiamo l'inno del sito commento sia la balla balla canary ma cazzo non solo cazzo non restante a me Si , 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 Si, Si , A te , ne va Comunque oggi si fottemmo il Linde poi parleremo 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 ovviamente di Juventus Grande Siti Finalmente ti posso sfottere Sarà un'estate triste Caro pescritto Per noi ventini Per chi nel web Ancora ti fa la event Sto godendo Doventi giorni Si goda ancora Viva l'estate per noi Per voi Siete morti Saluto